Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie per questa accoglienza, grazie ovviamente al Presidente Fedriga, al Sindaco Ciriani, al Ministro Fitto, al Ministro Ciriani, grazie ai membri del Governo, ai parlamentari presenti, a tutti i sindaci, grazie alle autorità anche civili, militari, religiose, grazie alle donne che sono presenti, auguri a tutte le donne di questa nazione, le cui pari libertà. Continueremo a lavorare per costruire, insomma, uno dei dati che mi ha reso più fiera di quest'anno riguarda, tra i tanti dati incoraggianti in tema di occupazione, proprio l'aumento dell'occupazione femminile, è una grande sfida e sono fiera del fatto che questo Governo abbia concentrato le proprie risorse proprio sul tema delle mamme lavoratrici, per costruire quella vera libertà che è data dal non dover scegliere tra forme di realizzazione diverse, ma perfettamente compatibili dal mio punto di vista, cioè quella della maternità e quella di avere una propria carriera. Quindi questo è il grande augurio che faccio alle donne italiane, poter vedere garantite sempre di più le loro pari libertà. Dopodiché, grazie ovviamente agli assessori, l'aggiunta a tutti gli staff che hanno lavorato alla stesura di questo accordo di coesione, noi stiamo girando tutto il territorio nazionale firmando questi accordi, siamo arrivati a oltre la metà delle firme degli accordi con tutte le regioni italiane e permettetemi su questo di fare un passo indietro e di raccontare che il lavoro che c'è dietro ha un'iniziativa di questo tipo. Non è semplicemente trasferire delle risorse e fare una manifestazione nella quale ci diciamo che siamo bravi. Perché quando noi siamo arrivati al Governo, non è il caso del Friuli Venezia Giulia, ma quando noi siamo arrivati al Governo, grazie al lavoro molto prezioso del Ministro Fitto, abbiamo fatto uno studio molto approfondito sullo stato dei fondi di sviluppo e coesione. Voi sapete che i fondi di sviluppo e coesione sono per antonomasia i fondi che servono a combattere le disparità tra i territori. Non vuol dire solamente il divario tra nord e sud, non vuol dire solamente il divario tra costa tiranica e costa triatica, vuol dire anche il divario all'interno della stessa regione, per esempio tra le aree interne, le città e sono fondi straordinariamente importanti per una nazione come la nostra. Sono fondi straordinariamente importanti per qualsiasi nazione che sia dotata di una propria strategia e che provi a guardare sul medio e lungo termine. Quando noi abbiamo fatto questo studio ci siamo resi conto che la situazione dei fondi di coesione in Italia era obiettivamente al di sotto delle aspettative. Vi do un dato. Nella precedente programmazione, perché i fondi di coesione vanno a cicli di programmazione, che era 2014-2020, su 126 miliardi disponibili nel totale erano stati spesi 46 miliardi. Ora voi ditemi se in una nazione come l'Italia, che obiettivamente non naviga nell'oro, noi possiamo permetterci di non spendere decine di miliardi che sono destinati alla messa in sicurezza del territorio, alle infrastrutture, cioè che sono destinati a precostituire le condizioni per combattere i divari. Io penso di no. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto articolato con le regioni, che ringrazio Presidente Federica perché c'è stata una grande collaborazione da parte del 95% delle regioni e dei presidenti di regioni, quindi non c'è, diciamo su questo come lei ricordava correttamente, non c'è stata una divisione di carattere politico. Tutti si sono messi a disposizione. All'esito di questo lavoro noi abbiamo varato un decreto che si chiama decreto sud nel quale c'è la riorganizzazione di questi fondi di coesione. Abbiamo istituito questi accordi. Qual è la particolarità di questi accordi rispetto al passato? Punto primo, che chiaramente noi finanziamo progetti che sono proposti dalle regioni, ma sui quali c'è anche l'accordo con il Governo nazionale. Perché? Non perché noi vogliamo in alcun modo limitare l'autonomia delle regioni, ma perché è meglio se il lavoro che una singola regione fa è inserito anche in una strategia nazionale, perché noi rimaniamo una nazione e se riusciamo a dotarci di una strategia, che è quello che purtroppo ci è mancato molto spesso. Ci è mancata una strategia industriale, ci è mancata una strategia di posizionamento geopolitico, strategico. Noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, una delle più grandi infrastrutture che abbiamo, il mare, è come se non ce ne fossimo accorti negli anni scorsi, ma è oggettivamente un nostro atu, cioè un nostro valore aggiunto sul quale bisogna saper costruire una strategia. Quindi vogliamo cercare intanto di garantire che queste risorse vengano spese per quelle che sono le reali priorità. Non è stato sempre così. Ci sono casi in cui queste risorse vengono spese per cose oggettivamente secondarie rispetto al lavoro che per esempio stiamo facendo oggi con la regione Friuli-Venezia-Giulia. E poi abbiamo anche inserito delle norme che consentono di garantire che questi soldi arrivino tutti a terra e quindi sono previsti i poteri sostitutivi nel caso in cui queste risorse rischino di essere disperse, così come è previsto che obiettivi che non vengono centrati possano essere definanziati perché quelle risorse vengano destinate ad altro. Io penso che questo sia un lavoro molto prezioso che chiaramente non avrà e non ha grande visibilità perché tra queste cose un po' complesse c'è una maggiore difficoltà a raccontarle ma credo che sia importante conoscere un lavoro che per noi è stato molto faticoso ma che penso possa fare la differenza e che viaggia insieme ad altre risorse. Noi abbiamo i fondi di coesione nazionale, abbiamo i fondi di coesione europea, abbiamo il PNRR. E guardate non è un caso che io abbia scelto quando ho formato il governo di mettere per esempio la competenza dei fondi europei, la competenza del fondo di coesione e la competenza del PNRR sotto la guida di un unico ministero perché è anche accaduto che noi avessimo diverse fonti di finanziamento che tra di loro non si parlavano e che non riuscissimo così a concentrare diciamo le risorse su quello che dall'altra parte mancava molto spesso e mentre facevamo questo lavoro di riorganizzazione dei fondi di coesione abbiamo fatto anche il lavoro sul PNRR e qui diciamo anche bisogna ringraziare tutti i livelli delle nostre istituzioni che stanno facendo del loro meglio per spendere le risorse del PNRR, altro tema non scontato, per far fare a questa nazione una bella figura anche il rapporto a un racconto che spesso è stato fatto, che è stato fatto diciamo da altri e che è stato fatto anche in patria, che è stato fatto particolarmente su questo governo, quando noi siamo arrivati insomma diciamo il tentativo di dire insomma col governo Meloni perderemo i soldi del PNRR, se pensate di rinegoziare il PNRR ci farete perdere i soldi del PNRR, fortunatamente le cose sono andate diversamente, io sono molto fiera del fatto che l'Italia nel 2023 abbia completato gli obiettivi della terza rata, portato a casa la terza rata, completato gli obiettivi della quarta rata, portato a casa la quarta rata, completato gli obiettivi della quinta rata, siamo la prima nazione europea ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata e mentre facevamo questo lavoro abbiamo anche rinegoziato il PNRR perché sì, anche questo serviva banalmente perché quando il PNRR è stato scritto era un altro contesto, quando il PNRR è stato scritto, il primo PNRR per esempio noi non avevamo il conflitto in Ucraina e non si può non porsi il problema di, quando ci si pone di fronte a degli strumenti, di adeguare quegli strumenti a un contesto che muta, quindi noi abbiamo rinegoziato il PNRR, lo abbiamo fatto per mettere in parte in sicurezza il PNRR perché poi era emerso che alcuni progetti non sarebbero stati completati nei tempi previsti dal PNRR che come sapete sono molto stringenti, alcuni non erano proprio finanziabili con il PNRR, li abbiamo garantiti con altri fondi, ma abbiamo facendo questo lavoro liberato 21 miliardi di euro che abbiamo potuto concentrare su alcune priorità. 12 miliardi di questi euro andranno al sistema produttivo di questa nazione che oggi ci sta obiettivamente dando grandi soddisfazioni perché in un contesto molto difficile i dati macroeconomici italiani vanno in controtendenza rispetto a quello che accade da molte altre parti e questo non si deve tanto alle politiche del Governo. Noi dobbiamo sempre ricordarci che lo Stato non produce ricchezza, la ricchezza la producono le imprese con i loro lavoratori e quello che compete allo Stato è mettere quelle persone nelle condizioni di lavorare nel migliore modo possibile, è il lavoro che noi stiamo cercando di fare. Abbiamo preso 12 miliardi di euro di cui oltre 6 su transizione 6.0, sull'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, sulle grandi infrastrutture strategiche energetiche di questa nazione, sull'agricoltura perché obiettivamente non abbiamo avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per sapere che il nostro mondo agricolo in forza di un contesto complesso e anche di scelte sbagliate che sono state fatte si è trovato in difficoltà e quindi abbiamo messo anche lì, abbiamo portato le risorse del PNRR sull'agricoltura da 5 a 8 miliardi, siamo riusciti a liberare altri 750 milioni per la sanità, altra grande priorità di questa nazione e quindi abbiamo fatto un lavoro che ci consentiva di concentrarci sulle questioni che ritenevamo essere più urgenti. L'accordo che noi presentiamo oggi rientra all'interno di tutto questo quadro, di tutto questo lavoro complesso che è un lavoro del quale io vado molto fiera. Dicevo, il Presidente Federica ha detto quasi tutto su quello che noi facciamo con questo accordo di coesione, stanziamo complessivamente 190 milioni di euro, di questi 16 erano già stati anticipati nel 2021, sono risorse che servono a finanziare 17 interventi strategici su capitoli che come diceva Massimiliano Federica sono altrettanto strategici, cioè la messa in sicurezza del territorio, il contrasto a rischio idrogeologico, il rafforzamento e l'ammodernamento della infrastruttura idrica per rispondere a un tema legato appunto alla domanda di acqua irrigua sia ad uso civile sia ad uso industriale che è estremamente importante e la questione della mobilità sostenibile. Il Presidente Federica ha già raccontato quali sono i principali interventi, io mi limito a sottolineare ancora i 77 milioni di impianti di irrigazione agricola per diversi comuni della provincia di Udine, gli 80 milioni per lo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonso che è un'opera strategica fondamentale per la medio-bassa pianura friulana e isontina per proteggere molte aree urbane dal rischio di alluvioni e dal rischio di esondazioni e sono totalmente d'accordo con quello che ho sentito dire da Massimiliano Federica il cui intervento avrei potuto diciamo sottolineare parola per parola perché è molto più difficile quando si fa il politico parlare di questioni complesse piuttosto che di risposte che sono più facili nella comunicazione e magari sul piano del consenso altre risposte possibili sono più remunerative nell'immediato. Però poi c'è un tema di coscienza per i politici seri e quel tema di coscienza per i politici seri impone fare prevenzione guardate vi racconto una storia quando in Giappone ci fu nel 2011 ci fu un terremoto nell'oceano pacifico che scatenò uno tsunami. Con quello tsunami ci fu una tragedia che vide più o meno 20.000 morti più i dispersi e diverse città che furono distrutte. Delle città che furono coinvolte da quello tsunami, a me ha molto colpito questa storia quando l'ho letta, delle città che furono colpite da quello tsunami in una sola non ci furono né morti né danni. Quella città si chiama Fudai nel 1967 il sindaco di Fudai decide di spendere l'equivalente allora di quelli che oggi sarebbero 25 milioni di euro per erigere una barriera anti tsunami alta 16 metri. È stato linciato nel senso che si giocò praticamente tutto il consenso che aveva perché i cittadini di Fudai dicevano quest'opera è brutta, quest'opera è un dispendio inutile di risorse pubbliche, quest'opera non serve. Il sindaco di Fudai ha deciso di non cedere, ha terminato questa barriera e quando l'ha terminata si è dimesso. Quando lo tsunami è arrivato 50 anni dopo il sindaco di allora di Fudai nel 1967 è diventato un eroe per i cittadini di Fudai, solo che intanto era morto. Però a me ha fatto molto riflettere questa storia, no? Quando tu riesci a fare qualcosa che impedisce un problema, un disastro, una tragedia non ti verrà mai riconosciuto perché nessuno lo saprà mai se sei riuscito a evitare quel disastro o quella tragedia. Non c'è stato il disastro e quindi non si sa neanche che qualcuno l'ha evitato, mentre quando c'è il disastro si parla di cosa si sarebbe potuto fare prima. Però rimane, come dicevo, nella coscienza dei politici seri fare tutto quello che si può per evitare che disastri arrivino. La messa in sicurezza del territorio, il tema dell'alluvione, il tema delle esondazioni, il tema dei terremoti, con cui lo sapete molto bene e questo è un territorio che può sicuramente capire quello che sto dicendo, perché quando qui si è abbattuto il terremoto è diventato un modello la ricostruzione di questo territorio, è diventato un modello che noi ancora raccontiamo, che ancora esportiamo, ma quel modello era anche figlio di una mentalità che noi conosciamo bene, che voi conoscete meglio di me, che ormai tutta l'Italia conosce, nelle parole dell'allora Vescovo che disse prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Era il modello del pragmatismo, dell'operatività, del lavoro che garantisce tutti gli altri diritti. Ed è quel modello di pragmatismo e di operatività a cui questo Governo cerca di fare il suo meglio per rispondere, al quale rispondiamo anche con l'accordo di oggi. Grazie davvero. Grazie Presidente Meloni. Invitiamo il Presidente della Regione a raggiungere il Presidente del Consiglio per la sottoscrizione dell'accordo. Sottoscrivono. Per il Governo il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, per la Regione il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Grazie. 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 Grazie.